Amici di Euromusica, è per me un piacere immenso ospitare un artista e abbiamo avuto modo di conoscere nella passata edizione di Spattor nel team di Emma Marrone. Quest'anno è uscito ogni suo nuovo singolo, ma ce lo racconterà lui, quindi diamo subito lo spazio a Santi, benvenuto tra noi. Ciao, ciao a tutti, grazie mille, grazie per l'invito, è per me un piacere enorme essere qua. Ciao, grazie a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori di Euromusica. Partiamo subito con il tuo ultimo singolo, raccontaci un po' come è nato, da dove viene il titolo, insomma un po' tutto. Allora, il mio nuovo singolo si chiama innanzitutto Prendila Come Vuoi, è nato l'anno scorso, in periodo natalizio. Dopo il mio percorso ad X Factor ho voluto prendermi del tempo per studiare e approfondire la mia persona e approfondire soprattutto quello che volevo fare del mio lavoro e i miei obiettivi. E quindi questa canzone è nata appunto in fase di studio e in fase di progresso lavorativo e parla appunto di una relazione che è stata soffocante e dalla quale appunto io sono voluto assolutamente uscire sfogandomi appunto con questa canzone, cerco appunto di riprendere tutti i particolari, tutti i dettagli della relazione e ovviamente in maniera più poetica e più, insomma, a fine possibile alla musica. Quindi questo è l'inizio di un nuovo capitolo che sicuramente raccoglierà tanta musica e insomma spero che vada tutto bene. E naturalmente noi ti auguriamo e vada tutto bene. Ti abbiamo seguito, dicevo all'inizio, nel percorso a X Factor, ma cosa c'è di nuovo dal vecchio Santi al nuovo Santi? Quello prima, quello durante e quello dopo X Factor? Allora, sicuramente X Factor è stata un'esperienza che mi ha cambiato radicalmente, nel senso che sia a livello personale che a livello artistico barra professionale e sono cambiato tanto, sono cambiate le mie abitudini e sono cresciuto, sono cresciuto perché è stata un'esperienza per me molto formativa, comunque all'interno del programma ero perennemente a contatto con persone del calibro di Emma Marrone, quindi anche quali frenetiche Orange, eccetera, che mi hanno fatto crescere, che assolutamente mi hanno fatto crescere. Quindi io sono cambiato molto sotto l'aspetto appunto musicale, ma non sono cambiato per niente sotto l'aspetto appunto caratteriale e personale, nel senso che comunque mi ha fatto crescere molto, sì, come maturità, nel senso che vedevo comunque il mondo in maniera diversa, però io sono sempre, insomma, sono rimasto me stesso, nel senso sono sempre un ragazzo super trasparente, che dice le cose sempre, insomma, come crede, e cerco, ecco, un mio obiettivo personale che mi sono predisposto è proprio questo, cioè nel senso di mantenere il mio carattere, quindi il Filippo Santi che è nato 19 anni fa, per sempre, nel senso non voglio anche cambiare a seconda delle situazioni, delle circostanze, eccetera, quindi questo sicuramente è una cosa che voglio tenere. Nel tuo ultimo lavoro c'è il contributo di persone al libro di Ballo, Michelangelo, ma come è nata questa elaborazione? Allora, Ballo fa parte appunto un po' del mio team, nel senso che lui lavora alle nostre produzioni, alle mie produzioni, insieme a Lorenzo Machiavelli e Simone Santi, che sono i miei produttori, e niente, quindi, insomma, con Ballo, dopo che ho finito appunto l'esperienza di X Factor, ci siamo appunto, ci siamo contattati, ecco, siamo riusciti a vederci, e lui si è subito interessato al progetto, come appunto produttore, e quindi, insomma, col nuovo anno, nell'inizio del 2021, insomma, metà del 2021, siamo andati in studio e abbiamo iniziato un po' a lavorare insieme, e io gli ho presentato appunto delle canzoni e dei provini che avevo fatto con i miei produttori, e niente, dopo è nata un'amicizia soprattutto, e poi in fase successiva anche un percorso lavorativo che spero continui. Mentre invece con Michelangelo è invece un po' più un rapporto esclusivamente lavorativo, nel senso che l'abbiamo contattato per farci fare il master del brano, il master, per chi non lo sapesse, è la conclusione appunto di un brano, quindi anche di un percorso, e lui è stato molto bravo, nel senso che comunque si è subito messo all'opera, grande efficienza, grande passione, una grande persona, Michelangelo, e poi si vede appunto che è un grande lavoratore, nel senso che è stato bravissimo, che ha fatto un lavoro veramente eccezionale, perché non è facile appunto riuscire a andare nelle concezioni musicali, comunque anche nell'intenzione, no, di un artista che non conosci, perché io e Michelangelo prima non eravamo mai in contatto, mentre invece lui è subito riuscito, anzi ha dato anche dei plus al brano, e quindi insomma sono state, sono stato molto felice, e siamo stati molto felici tutti. Parlavi prima di un, di un Santi, è cambiato dal punto di vista artistico, anche grazie al percorso di X Factor, e come è stato lavorare con personalità, realibro di Emma, Freneti, Orange, e con personalità molto importanti del mondo della musica, persone che letteralmente l'hanno, hanno state un pezzo della storia, della nostra musica. Ma sicuramente potersi mettere, insomma, sullo stesso piano, perché alla fine X Factor, lavori con loro, quindi sei sullo stesso piano, lavorativo, non artistico, insomma, non fa intendermi. E' veramente un onore, perché comunque va in sala con una Emma Marone della situazione che ti cura la voce, che ti fa dei discorsi, che servono tantissimo per l'interpretazione di un brano, per affrontare un palco, perché comunque anche il palco di X Factor è molto difficile per chi non ha mai fatto palchi riuscire, capito, insomma, salire pragmaticamente. Quindi, Emma in questo ci ha sempre sostenuto e personalmente mi ha aiutato tanto, nel senso che io sì, avevo fatto concerti precedentemente, ho fatto molto, io nasco sul palco, quindi la mia storia musicale nasce proprio sui palchi, nasco dal vivo. Sono prima musicista che è, ecco, cantante, nasco da musicista che è da cantante, quindi io nasco sui palchi, quindi comunque quell'aspetto lì, ecco, ce l'avevo già un po' di mio, però tutto il resto, ad esempio a livello interpretativo sui brani, a livello, proprio pragmaticamente, di come sviluppare un percorso, eccetera, su questo Emma ci ha sempre dato una mano e anche fuori dal programma mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato veramente tanto, anche perché abbiamo comunque tenuto dei rapporti, stiamo continuando a tenere dei rapporti, quindi su questo le devo veramente tanto. E per ritornare alla domanda, comunque lavorare con tre persone ti fa crescere, perché comunque sei messo costantemente alla prova e devi crescere per la forza, perché te lo chiedono e se lo fai è solo cose insomma belle e buone che porti nell'interno di te stesso, quindi insomma è meglio sempre raccogliere tutto quello che insomma che uno ci dà, soprattutto in quel frangente lì. Hai detto che nasci dal vivo praticamente, quindi quando potremo rivederti dal vivo? Spero presto, spero veramente presto, è un periodo difficile, perché il Covid è un po' un, insomma, un ostacolo enorme soprattutto per il mondo della musica, ma in generale per tutti i mondi lavorativi, però spero di tornare veramente presto, perché è una forma musicale a cui io tengo molto e su cui io punto molto, quindi spero veramente presto. Purtroppo non so darvi delle date precise, ma sicuramente con l'anno prossimo, con l'anno a venire, con l'anno nuovo, ci saranno sicuramente le sorprese. E noi riattendiamo chiaramente queste sorprese e chiudo con una piccola domanda, ma questa è più che altro una curiosità personale, un ospizio e mi voglio trovare da un tempo. Ti sei ricordato di mettere l'acqua al bonsai? Sì, 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 gliel'ho messa, gliel'ho messa, gliel'ho messa. Pensa che lo sono andato a comprare un bonsai, perché io prima non ce l'avevo in casa in realtà. Sono andato a comprare un bonsai dopo che sono uscito da X Factor e in realtà non sei il primo che me lo dici, nel senso che la gente ogni tanto ancora mi ferma per strada per dire me l'hai messa l'acqua nel bonsai, quindi è un po' una battuta che si sta sentendo un bel po'. Quindi però no, sì, l'ho messa, l'ho messa, in tutti i punti di vista, su tutti i punti di vista. Va bene, io ti ringrazio per la disponibilità, per averci presentato anche questo tuo ultimo lavoro, per averci raccontato un po' chi è Santi veramente, invito tutti i nostri lettori, tutti i nostri amici di Euromusica ad ascoltare il nuovo singolo di Santi, prendila come vuoi, disponibile su tutti i digital store, ascoltatelo, veramente bello e mi raccomando. Noi ci aggiorniamo, restate sintonizzati sulle pagine del nostro sito e grazie ancora per essere stato qui con noi. A lupo per tutto. Ciao, grazie mille, grazie mille, veramente grazie mille dell'interessamento e spero di potervi vedere presto e grazie mille a chi legge o a chi ascolta questa intervista e niente, grazie a te Beppe, un abbraccio e spero di, insomma, di vederti presto. Un abbracione grande.